Quanto tempo è necessario per vedere i risultati? Logicamente la risposta corretta è dipende. Dipende dal grado di invecchiamento dell'acute del paziente, dipende dal grado di cedimento dell'acute del paziente, dipende dal grado di lassità e di cedimento del tessuto sottocutaneo, superficiale, intermedio e profondo del paziente. Soprattutto dipende dall'aspettativa del risultato del paziente stesso. Quindi cambia completamente il ciclo di trattamento, quindi cambiano completamente le sedute, il numero delle sedute da effettuarsi, per ogni singolo caso. Possiamo dire che mediamente si effettua sempre un ciclo di almeno, e sottolineo almeno tre sedute, che logicamente il risultato si vedrà in maniera graduale di seduta in seduta. Quindi, se l'operatore prevede un ciclo, ad esempio, base di quattro sedute, vorrà dire che il paziente comincerà a vedere il risultato della prima seduta dopo un mese e mezzo. Di conseguenza la seduta, la seconda seduta, verrà effettuata dopo un mese e mezzo, e il risultato di questa seconda seduta si vedrà dopo un altro mese e mezzo, quindi a tre mesi di distanza dalla prima. Dopodiché, a tre mesi si effettuerà la terza seduta, il risultato di questa terza seduta si vedrà dopo un altro mese e mezzo, quindi a quattro mesi e mezzo dalla prima. E effettuando dopo un altro mese e mezzo la quarta seduta, per vedere il risultato della quarta seduta, si dovrà attendere un altro mese e mezzo, quindi a sei mesi di distanza dalla prima. Quindi, quando il paziente pretende di poter vedere un risultato tangibile dopo una settimana, dieci giorni, quindici giorni, ciò è impossibile, perché il morfeusotto, essendo una radiofrequenza bipolare, frazionata, ablativa, verticale, necessita, logicamente, della risposta del tessuto, che si ha nel corso dei mesi. Tant'è che il paziente viene fotografato prima del primo trattamento, prima del secondo trattamento, prima del terzo trattamento e così via, e poi all'ultimo controllo, per valutare tutto l'iter del risultato. Quindi, ricordatevi che il risultato del morfeusotto è un risultato che si vede a distanza di tempo, a distanza di tanti mesi.